Lunedì scorso i sondaggi nel Tg di Mentana sulla carta danno la somma dei movimenti dei partiti populisti sovranisti quindi un'eventuale alleanza Movimento 5 Stelle Lega 313 seggi alla Camera solo 3 in meno del necessario ci dice, siete, ci risponda, potremmo immaginare un'alleanza tra voi e il Movimento 5 Stelle? Faccio la domanda, ci risponda Scusate avete sentito Di Maio? L'abbiamo sentito Ecco l'avete sentito, gli italiani l'hanno sentito ma secondo voi noi possiamo fare l'alleanza con questi qua che non sanno neanche da che parte sono girati, non hanno neanche capito che nel momento in cui vinci le elezioni il giorno dopo i 30 miliardi li devi trovare, non devi andare a blaterare in campagna elettorale o nei talk show televisivi sono cose diverse, un conto è raccontare agli italiani, apriremo il Parlamento come una scatola di tonno l'hanno aperto, poi l'hanno richiuso, il tonno sono diventati loro un altro conto è andare a governare il Paese io sono d'accordo con Maria Stella Germini quando dice il nostro obiettivo è quello di portare agli italiani gli esempi di Lombardia, Veneto e Liguria e quindi governare chi ci sia, un centrodestra che governa questo Paese come trovare i 30 miliardi? Io non sono Di Maio che va a raccontare stupidaggini italiani Lei come li troverebbe? Non lo so, Gianmarco Centinaio si occupa di cultura e turismo non si occupa di economia, di conseguenza non vado in televisione a raccontare stupidaggini perché poi il giorno dopo qualche altra trasmissione dirà guardate quel fenomeno di Centinaio che castronerie sta raccontando Se vede dei cartelli dell'ultimo nostro sottaggio Gianmarco Centinaio non lo sa perché Gianmarco Centinaio nella vita si occupa di cultura e turismo e di conseguenza vi può dire con il governo, eventuale governo di centrodestra che cosa faremo in quegli argomenti di cultura e turismo eventualmente portiamo Borghi o portiamo Giancarlo Giorgetti e vi spiega in economia come fare a trovare i 30 miliardi Lei ha escluso in maniera netta Ma assolutamente con quella gente neanche morta Va bene, Go Torra